Si avvicina l'appuntamento con le elezioni regionali e è candidata per la prima volta alle regionali ma non alla prima esperienza politica Stella Cantelli. Come mai la decisione di scendere in pista per le regionali? Ha detto bene in pista e che è un'assonanza con quello che mi compete nella vita di tutti i giorni. Appunto io naturalmente nasco come coach di pattinaggio artistico e quindi un'attività sportiva molto importante per l'Abruzzo tra l'altro. Sono in pista questa volta politicamente perché voglio mettermi in gioco e sostenere la mia regione, sostenere questo progetto del candidato Legnini e di una lista così eterogenea ma allo stesso momento così campanilista appunto proprio per il nostro Abruzzo. Sono sicura che sarà una lista vincente e soprattutto che faremo bene per la nostra regione. Lista civica come altre liste civiche, diciamo che questa è un'elezione, questa delle regionali particolare perché sono tante le liste civiche in campo da una parte e dall'altra. Ormai si sta superando la logica dei partiti tradizionali? Ovviamente è sintomatico il fatto che ci siano tante liste civiche ed è anche positivo perché le persone del territorio si fidano delle persone che riscontrano e che incontrano tutti i giorni sul territorio, non più di un simbolo politico ed è anche per questo la mia scelta di appoggiare una lista civica proprio per essere più vicino al territorio. Decisiva per la tua scelta, i fini della tua scelta anche diciamo la morale suosione di Daniele Toto che ti ha spinto a candidarti? Assolutamente, l'amico Daniele mi ha dato un incipit per questa corsa, mi ha fatto sposare questo progetto, mi ha fatto amare questo progetto e mi ha fatto credere fortemente in questo progetto come i tanti altri giovani della nostra lista. Stella, per chiudere quali secondo te le priorità per la nostra regione ad oggi? Sicuramente le infrastrutture, i trasporti, il turismo e anche il turismo sportivo.